Stanchezza e affanno, dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace che non passano anche a distanze di settimane o mesi dalla diagnosi di covid-19 e la sindrome post-coronavirus che si stima a riguardi con almeno un sintomo fino all'80% dei contagiati. Ne parleranno gli esperti riuniti in occasione del decimo corso di alta formazione sul dolore acuto e cronico dalla ricerca alla clinica, organizzato dall'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale a cura di MCM Congressi, che avverrà in versione digitale dal 4 al 6 marzo. Ma che cos'è il dolore cronico? Ascoltiamo Arturo Cuomo, direttore della struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia antalgica del Pascale. Il dolore cronico è una malattia multidimensionale perché ha un aspetto legato al dolore fisico propriamente detto, alla sofferenza psico emotiva correlata al dolore fisico e alla limitazione funzionale. Quindi il dolore cronico è una malattia biopsicosociale per definizione che ha questi tre aspetti che finiscono in qualche modo per sovrapporsi ed intersecarsi tra di loro. In Italia si stima che siano oltre 2 milioni i pazienti affetti da dolore cronico e gran parte del dolore cronico è il cosiddetto dolore cronico benigno, cioè quello legato a malattie come l'artrosi, come il mal di schiena cronico, come la gonartrosi, come tutti quei processi correlati un po' all'invecchiamento del sistema muscolo-scheletrico. Circa i dolori legati al post-covid è intervenuto Marco Cascella, dirigente medico della struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia antalgica del Pascale. Ad oggi abbiamo quasi 2 milioni e 300 mila italiani che sono dimessi o guariti da covid. Facendo riferimento a studi italiani ma anche stranieri, si parla di circa il 10-20% dei covid dei survivors che possano avere problematiche di dolore cronico.